Buongiorno a tutti, sono Aurora Cocchetto, residente secondo anno di neurologia qui in Clinica San Marco. Parteciperò alla seconda giornata della Gem Session parlando di meningoncefaliti di origine sconosciuta e in particolare presentando i risultati di un lavoro da noi fatto su questa patologia, patologia a cui mi sto dedicando dall'inizio del residency e che trovo molto interessante. Vi aspettiamo numerosi!